28 nuovi casi di coronavirus e tre decessi, un pratese di 91 anni morto alla RSA a casa di Marta, una donna di 99, anche lei pratese, ricoverata nella struttura La Melagrana, e un uomo di 79 anni, di Montemurlo, ricoverato all'ospedale di Pistoia. Sono i numeri contenuti nel bollettino diffuso dalla regione oggi per fare il punto sull'andamento dell'epidemia da coronavirus nella provincia di Prato e nel resto della Toscana, dove si contano nelle ultime 24 ore 452 nuovi contagi e 34 morti, 15 uomini e 19 donne, età media 84 anni. A Prato il numero dei casi sale a 10.137 e quello delle vittime a 236, mentre su scala regionale sono 116.235 i contagi e 3.473 i decessi. I tamponi effettuati ieri sono stati 6.638 con una incidenza di positività del 6,8%, scartando i tamponi di controllo l'incidenza di positività sale a oltre il 20%. L'età media dei nuovi positivi è di 47 anni con il grosso, il 35%, concentrato nella fascia d'età che va da 40 a 59 anni. Stabile il numero delle persone ricoverate, 1.150, 185 delle quali in terapia intensiva. Migliora la situazione dell'area Covid all'ospedale Santo Stefano, dove si passa dagli 89 degenti di ieri ai 68 di oggi, mentre è stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 10 a fronte di 20 posti letto. Sono invece 32 su 36 i letti occupati al vecchio ospedale, 38 su 42 alla melagrana di Narnali. Sale ancora il numero delle guarigioni, 828 i nuovi guariti, che portano a 100.366 il bilancio che tiene conto sia delle guarigioni virali che di quelle cliniche.